Oggi arrivando in Ossola ha percorso la SS33, cosa ne pensa? Della 33 abbiamo ripetutamente discusso, ci siamo confrontati con gli amministratori locali e continuiamo a confrontarci quotidianamente e quindi non posso che ribadire ciò che abbiamo sempre detto che è sicuramente un'arteria che necessita di opere di adeguamento e di miglioramento. Anas ha già da tempo prodotto un progetto di miglioramento strutturale dell'arteria, quindi non solo in termini di manutenzione ordinaria, auspichiamo che a breve saranno disponibili le risorse necessarie senza delle quali ovviamente il nostro campo di azione è molto limitato.